Ciao e benvenuti su Fisio Social, nel video di oggi parliamo di dolore nella parte laterale del ginocchio o quello che viene chiamata anche sindrome della bandeletta iliotibiale oppure in inglese da dove prendiamo tutti i termini scientifici purtroppo o per fortuna non lo so ITBS che sarebbe per iliotibial band syndrome quindi sindrome della bandeletta iliotibiale è una sindrome dolorosa quindi già il fatto di partire con una definizione di sindrome ci indica che non è proprio chiarissima quella che è la causa di questa problematica adesso quindi in questo video voglio andare a fare un po' di chiarezza per quanto possibile scientificamente di qual è la causa di questo dolore quali sono le eventuali soluzioni e vi voglio poi esporre un caso studio di un paziente che ho visto l'altro giorno correre e che mi ha ringraziato e quindi mi ha fatto venire in mente di fare questo video partiamo subito dalla definizione del problema di per sé quindi la sindrome della bandeletta iliotibiale indica quindi un dolore nella parte laterale del ginocchio ok la parte laterale non nella parte laterale della coscia non a livello dell'anca nella parte laterale del ginocchio in corrispondenza a quello che è il condilo laterale quindi quella sporgenza ossea nella parte esterna del ginocchio in quella zona lì un punto abbastanza circoscritto come una moneta da 50 centesimi ok al massimo una moneta da 2 euro quindi un pochino più grande però una zona che rimane abbastanza circoscritta tendenzialmente è una cosa molto molto comune nei corridori quindi corridori e persone che fanno trekking oppure hiking la calligrafia è quella che è quindi che cosa causa questo problema? tendenzialmente è un problema da sovraccarico quindi le cause sono il sovraccarico quindi le classiche lesioni da overuse che si dice quindi praticamente quello che succede è che man mano che faccio e accumulo chilometri a livello delle mie ginocchia soprattutto in discesa motivo per cui anche quelli che fanno trekking o comunque hiking camminate in montagna con lunghe discese ovviamente dopo lunghe salite c'è anche la discesa di conseguenza lunghe discese lunghe corse vanno a dare un sovraccarico a quel livello lì anni fa si credeva che questo problema fosse simile a una tendinite quindi un'infiammazione di un tendine perché la bandelletta iliotibiale ha un po' l'idea di un tendine il problema è che è una via di mezzo tra un tendine e un legamento perché da una parte collega la cresta iliaca motivo per cui prende il nome bandelletta iliotibiale perché va dalla cresta iliaca quindi dalla parte superiore qua del bacino fino alla fino alla tibia ok quindi da una parte connette due ossa e noi sappiamo che quella struttura che connette due ossa si chiama legamento e la struttura che connette un osso il muscolo con un osso quindi la parte inserzionale o nella parte dell'origine del muscolo viene chiamato un tendine la bandelletta fa un po' tutte e due questi mestieri di conseguenza chiamarla una tendinite non è proprio giusto né da un punto di vista anatomico né per come si comporta il dolore né per come si risolve il dolore ok e perché ovviamente non si trovano quelle che sono le caratteristiche tipiche di una tendinite quindi quello che noi sappiamo e quello che ci interessa anche per andare poi a fare una buona riabilitazione e cercare di recuperare di ritornare alla corsa o all'attività sportiva è quella di capire un attimino la causa abbiamo detto che le cause principali sono il sovraccarico quindi le lesioni o comunque le problematiche da overuse da sovrautilizzo quindi persone che corrono molto persone che fanno tanta attività di trekking o di camminate di hiking in montagna soluzioni quindi allora siccome abbiamo detto che non è una tendinite non può essere trattata come una tendinite ok deve essere trattata come? deve essere trattata come qualsiasi problema da sovraccarico quindi la soluzione principale numero uno nel momento in cui ho un dolore acuto è il riposo riposo quindi se hai questo problema e vuoi farti un favore fai un riposo uno scarico totale riposo non vuol dire ma tendenzialmente corro quattro volte a settimana cinque chilometri questa settimana faccio tre volte quattro chilometri cioè non è riposo quello riposo assoluto per un periodo di almeno una decina di giorni ok assoluto in termini di quanto si possa fare perché se si fa un lavoro attivo si deve camminare si devono fare altre cose ovvio che è difficile però riposo da quella che è l'attività sportiva se fattibile se possibile riposo assoluto dopodiché ci sono diverse strategie ok e si leggono e si vedono tantissime cose stretching il foam rolling e altre situazioni come le coppettazioni o altre cose di questo tipo hanno praticamente un'efficacia posso dire quasi vicino allo zero in termini di modificare la struttura tieni presente che la consistenza della bandelletta iliotibiale è simile alla ruota della macchina ok cioè quindi è come se con le mani o con le coppette tu volessi ammorbidire le ruote della tua macchina è una cosa abbastanza difficile motivo per cui i vari stretching i vari appunto foam rolling quindi o le coppette qualsiasi cosa che ha l'obiettivo di andare ad ammorbidire ad allungare questa fascia già mi fa sorridere perché ripeto è una cosa che è impossibile quindi tralasciando stretching e varie cose che non servono quello che possiamo e dobbiamo andare a fare come sempre è modulare il carico a livello del ginocchio quindi andare a modulare la corsa l'attività che viene fatta e andare a fare un lavoro di rinforzo e di riequilibrio muscolare a livello del ginocchio dell'anca della caviglia quindi dell'arto inferiore ma soprattutto il ginocchio ovviamente che è il nostro protagonista quindi rinforzo per dirlo in una parola adesso poi nel caso studio vediamo anche nello specifico come modulare ad esempio la corsa come modulare l'attività gli esercizi e quindi qui ricapitoliamo un attimo al volo e poi andiamo a vedere il caso studio la causa abbiamo detto che sono appunto problematiche legate ai corridori quindi da sovraccarico trekking hiking la soluzione principale in fase acuta è il riposo e dopodiché si fa una buona riabilitazione è probabile anche che dopo una prima fase dopo una prima fase di riposo se è un primo episodio che non è neanche un dolore molto forte se si fa un buon riposo è anche probabile che con un ritorno graduale all'attività fisica non ci sia neanche bisogno di granché in termini di riabilitazione perché probabilmente si riprende il proprio giro però la cosa dove sbagliano molte persone è proprio questa gradualità ok non riprendo subito con i miei 10 chilometri che ero abituato a fare o 5 chilometri o quello che vado gradualmente allora è probabile che quella mi serva anche come reinserimento come riabilitazione rinforzo invece o riabilitazione in generale lo vediamo adesso nel caso studio il caso studio è il caso di Antonio che aveva un dolore appunto da sindrome della bandelletta eliotibiale gli era stato consigliato di fare nuoto come come riabilitazione ovviamente insomma anche lì sì certo un'attività fisica può far bene però se voglio correre se il mio obiettivo è quello di fare una determinata attività non è che migliorerò la corsa andando a nuotare non hanno molto senso le due cose quindi che cosa è stato fatto nel caso di Antonio beh prima cosa lui aveva già superato la fase di riposo perché era ormai a 5 6 mesi che aveva dolore di conseguenza non aveva più senso il riposo perché già non andava più a correre ok provava a corricchiare però dopo un quarto d'ora 20 minuti di corsa iniziava il dolore che poi rimaneva per un tot di ore allora qui si fa un ragionamento vado a modulare quello che riesco a fare se ho dolore dopo un chilometro allora magari vado a fare delle sessioni da 500 metri di corsa ok non vado a fare un chilometro quindi sto un pochino sotto la soglia massimale di quello che riesco a fare quindi 1 modulare corsa 2 ovviamente prima di andare a correre cosa abbiamo fatto abbiamo fatto 4 settimane di esercizi esercizi di rinforzo esercizi di stabilità esercizi di stretching globali a livello degli arti inferiori quindi riabilitazione rinforzo stretching stabilità ok qua e il tutto è stato fatto ovviamente in video programma abbiamo fatto la prima valutazione abbiamo visto che il problema è questo abbiamo impostato il piano riabilitativo con questi esercizi che sono stati seguiti da questo paziente in totale autonomia ok dopodiché dopo queste quattro settimane abbiamo fatto un test di corsa e già lì la prima sessione di corsa è andata meglio non era più in chilometro ma era un pochino di più insomma rispetto a quello che era stato il suo vecchio limite quindi siamo andati a due chilometri non abbiamo iniziato a correre due chilometri tutti i giorni abbiamo corso un chilometro e mezzo per tre volte a settimana per due settimane dopodiché siamo andati a rimisurare quello che era il limite e non era più due chilometri ma era diventato quattro ok non abbiamo corso tre volte alla settimana quattro chilometri abbiamo corso due e mezzo tre che è in base alla giornata in base all'impegno anche lì ci sono tante cose da tenere presente perché un conto è se facciamo il corridore agonista e lo facciamo per lavoro abbiamo tutto il tempo del mondo se invece una cosa in più finisco di lavorare alle 18 comunque la quantità di tempo che posso dedicare alla riabilitazione alla corsa diventa viene un po meno ovviamente con gli impegni della famiglia però l'idea è che nel al meglio al netto delle mie capacità e possibilità cerco di fare appunto di seguire un piano riabilitativo fatto bene quindi abbiamo siamo andati avanti in questo modo per 6 7 8 settimane dovremmo essere adesso penso a 10 settimane circa e quindi Antonio è tornato a correre circa 6 7 chilometri senza dolore in termini esagerati cioè c'è ancora qualche problemino però parliamo di corsa comunque abbastanza intensa e di tanti chilometri ok per diverse volte alla settimana quindi se c'è un modo di migliorare la sindrome della bandelletta iliotibiale è quella di andare a fare un rinforzo e uno riequilibrio a livello muscolare articolare del ginocchio dell'anca della caviglia quindi un lavoro globale agli arti inferiori la cosa più importante è quella di fare stabilizzazione e rinforzo il ginocchio è un'articolazione che lavora tendenzialmente in carico soprattutto quando andiamo a correre più il ginocchio è stabile dal punto di vista muscolare più è forte più questo mi permette poi nell'attività della corsa di di essere più performante e di andare meno in sovraccarico in strutture che non dovrebbero andare in sovraccarico poi per amor del cielo le lesioni capitano gli infortuni capitano anche i migliori importante poi venirne fuori e gestirli al meglio quindi questo è un caso studio e il metodo ad oggi più scientifico possibile per andare a migliorare una problematica di bandelletta iliotibiale se soffri di questo problema o comunque di qualsiasi problema legato al dolore al ginocchio o in generale problematiche muscoloschelettriche ci puoi venire a trovare nel nostro centro a milano trovi tutti i dettagli qua sotto e in più puoi provare la prova gratuita del video corso ginocchio sano e forte sempre nel primo commento o nella descrizione troverai dei consigli degli esercizi per il ginocchio anche questo ha dato ottimi ottimi risultati in simili problematiche o problematiche da sovraccarico da overuse a livello del ginocchio ti ringrazio per l'attenzione e spero che il video ti sia piaciuto ci vediamo alla prossima